Io penso che dobbiamo dare immagini di qualità e contenuti di qualità, è un binomio inscindibile. È la televisione che propone immagini di qualità con lo sviluppo dell'HD, è la frontiera nella quale dobbiamo andare, accompagnandola appunto con dei contenuti che rappresentino la gente, rappresentino i paesi, i continenti, il mondo. Ce la facciano conosce dalle sue facettature, la tecnologia ci può aiutare molto, però dobbiamo con l'intelligenza degli uomini renderla accattivante. Bella anche nei drammi che raccontiamo, è la nuova tv verso la quale andiamo sempre di più avanti, 4K, 8K già in Giappone, eccetera, ultra HD e HDR meglio, ci consentirà, ci consente a tutti di fare un salto di qualità se lo vogliamo fare. Credo che l'impegno nostro debba diventare, partendo anche da questo appuntamento, un impegno sempre più forte per arrivare ad una codificazione unica, a uno standard unico per l'HD, per la transmissione, perché questo è fondamentale per il mercato e per gli utenti. L'immagine è contenuto, quindi anche l'immagine però va sempre proiettata, pensata, rimontata pensando al contenuto che si dà. E quindi anche l'immagine, nell'immagine può essere un problema etico, dipende, quindi ecco perché ci deve essere la testa di professionisti importanti dei contenuti. La dico così, dovrei dire dei giornalisti, visto che lo sono, dico che dobbiamo pensare in questo, in una nuova svolta che si impone anche per il giornalismo, che è sempre meno destinato a rimanere chiuso in se stesso. C'è un giornalista più ricco di competenze, multimediale abbiamo detto, eccetera, ma oggi è anche un giornalista che sia capace di lavorare in un sistema interdisciplinare con altre professioni. Pensate all'uso dei big data, come si fa se non si lavora in squadra? Ecco, la sfida tecnologica è una sfida di lavoro di squadra, nuovo. Grazie a tutti.